Oggi ogni mille matrimoni ci sono oltre 300 separazioni e quasi... Ma certo ma che si sposano a fare, no? Sì, lo so. La mia è proprio una bella famiglia. Una famiglia perfetta. Questa è la storia di come ho cercato di distruggerla. Sono andata a Hong Kong con il nuovo fidanzato giapponese di mamma. Sono andata a Los Angeles. Tu? A Troia. Perché mi avete mandato in quella scuola? Ma come c'è Patti, la figlia di Vanessa? Io capisco il marito, i figli, ma un po' di divertimento ogni tanto. Non è mica un reato, no? Io avrei dovuto licenziarla molto tempo fa. Non erano certi i più fighi sulla piazza. Papà e mamma si muovano sul serio. E questa per me era una vera tragedia. Basta! Voglio i genitori separati! Dovremmo puntare sulla gelosia. L'ho rimorchiata tre giorni fa e adesso mi si attaccata alle palle come un gatto. Paola Baldini, la palena della prima B. Anna! Paola! Ma che c'hai? Forse ho un'idea. È un'occasione molto importante per il mio lavoro. Ah. E da quando qua si va a casa di una cliente a firmare un contratto, eh? Quanti sanno di questa cosa? Vale! Vale! Sta minucca! Sorpresa! Sono tornata! È una nonna nella TV! È una nonna어라! È una nonna. È una nonna che spada. È una nonna... Orverè è un'occasione... Ma.